Filippo Bubbico saluta il governo, ringrazia Gentiloni e se ne va. Le idee valgono molto più delle poltrone, commenta Roberto Speranza, coordinatore nazionale di MDP, la decisione del corregionale di dimettersi da viceministro agli interni, quale atto di condivisione della posizione assunta dai relativi gruppi parlamentari di non votare favorevolmente la relazione di Padoan sul documento di Economia e Finanza, il DEF. A livello nazionale anche le dimissioni di Filippo Bubbico da Montescaglioso ci dicono quali siano le difficoltà che il governo dovrà affrontare lungo il percorso della manovra, anche se per l'esecutivo si manifesta comunque un certo cauto ottimismo sull'obiettivo finale. Il premier Gentiloni incassa infatti proprio dal gruppo MDP il voto sulla variazione dei saldi e l'ex sindaco di Milano, Pisapia, difende le possibilità di dialogo e nega di essere deluso dallo strappo di MDP sul documento. Non mi aspettavo altro di diverso, precisa, non c'è uno strappo. Era fondamentale che MDP non votasse contro lo scostamento di bilancio. Un granellino più insidioso nell'ingranaggio è invece rappresentato da Massimo D'Alema che viene giudicato sempre da Pisapia, divisivo, dovrebbe fare un passo di fianco. Ma tornando, anzi venendo agli scenari più strettamente lucani, gli ex PD, dei quali fa certamente parte da Leone, l'ex governatore Bubbico, ci ha già detto la scorsa estate che intende fornire il suo qualificato contributo. In terra lucana, infatti, mentre si prepara la stagione congressuale del PD, ci si prepara anche alla chiamata alle armi in vista della successione a Marcello Pittella in regione. A patto però che questa regione esca dal provincialismo e torni a pensare in grande. È il monito che assume le forme di una critica non tanto velata agli ultimi anni di governo regionale, anche se Bubbico si affretta a precisare, anzi a confermare, di non essere interessato a tornare in sella. Dunque in Basilicata, così come a livello nazionale, si va verso un duro scontro elettorale tra MDP e PD, ricorda per certi aspetti la battaglia tra Hillary Clinton e Bernie Sanders. Lì alla fine è arrivato Trump. Vedremo in Italia.